Ascoltatevi bene perché sto per annunciare il video più assurdo che abbia mai fatto in tutta la mia vita Ci vediamo lunedì 1 giugno alle ore 12.30 sul mio canale Per un video speciale season 3 in cui andrò a shoppare un V-Buck per ogni persona che mi supporta su Fortnite con il codice creatore Mantis In questo momento vi dico che ho anche la maglietta e più di 100.000 persone già mi supportano Quindi dovrò shoppare più di 100.000 V-Bucks che utilizzerò per regalare pass battaglia e fare tanti regali a voi che mi seguite durante la season 3 E io vi dico non mi supportate avete tempo fino alle 12.30 del lunedì per togliere il mio supporto a un creatore e farmi shoppare il meno possibile Alle 12.30 raga mettete la sveglia E ciao a tutti ragazzi sono Mantis e benvenuti in un nuovissimo video insieme a questi pazzi di OctiCup e Zerbi Oggi ci dobbiamo sfidare in questo percorso per un obiettivo super ma super portante Infatti il vincitore di questa partita chi arriverà prima alla fine si beccherà 10.000 V-Bucks in regalo dagli sconfitti Ciao ragazzi come va? Bella raga bella raga aspettate che faccio il mio bel parkour senza che nessuno mi disturba Ok visto che sono un pro vi dico che vincerete soltanto utilizzando il codice supporto a un creatore Mattis E soprattutto che sparando su questo dato uscirà un numero lì e noi ovviamente dobbiamo andare dove c'è quel numero Ok Detto questo ragazzi un bel mi piace mi raccomando e direi di partire parto con il primo eh sparo 3,2,1 PUM Vediamo che riesce 3,6,6 1,1,2,3 E dopo gli occhi ci sono io eh 5,5 Vai 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 Perfetti che numero hai? Ok sei occhi? Ok sei occhi? Ok sei occhi? Ok sei occhi? Oh grande occhi benvenuto Quindi Matti Zerbi ti sono uguali Sei anche... Anche... Ma hai pagato questo dato scusate No ragazzi esce anche me sei e incredisce Anche lui e guarda Ragazzi aspettate 3,2,3 Ok vado sparo... No chi è che ha sparato al posto mio? Eh ho sbagliato scusami Vabbè vabbè hai sparato per me fa niente Sei Oh Ragazzi ma questa la finisco in due Ah ma escono delle cose ragazzi eh 3,4,5,4 Ok tocca a me vediamo un po' Vai Scusa un secondo eh Quindi abbiamo fatto praticamente sempre sei tranne Zerbi e Neopti per ora Sì E io ho fatto cinque ecco State attenti perché quando saltate sulle piattaforme vi escono scritte delle cose tipo torna indietro di due oppure vai avanti di tre Due Ma io sono proprio sfigato incredibile 3,2 Vai va tizio Te l'ho sparato Ah tocca a me eh Ah vabbè hai fatto per me grazie Sì Vado 3 Vediamo cosa mi esce 1 2 E 3 Vediamo se c'è scritto qualcosa Oh ma sto beccando tutti quelli fortunati Bene così Otti 2 E io invece vediamo un pochettino quanto faccio Attenzione Attenzione 5 Ok ottimo ottimo 1 2 3 Che è sto robo 4 E 5 Ok No ragazzi No vabbè Ok Ma cos'è Ma poverino Vai grazie E io da qui non vedo niente Ah ecco te lo dico io 5 Vai vatti 1 2 3 4 E 5 Oh ma sto beccando tutti quelli vuoti Wow Vediamo io invece Attenzione Dai Dai ti prego 3 Ok 1 Mi sa che c'era scritto qualcosa qui No no qui c'era scritto qualcosa Mamma mia Oh comunque ragazzi sto per vincere i 10 mila mi bucks È ancora in lunga Però io intanto sono primo Raga Al pro player è uscito ancora No vabbè No 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 c'è qualcosa che non va Ok Raga è bagato per me perché è uscito 3 Hai sparato 3 2 2 Vai vai sparo io sparo io sparo io tranquillo Vado 3 2 1 Boom Complimenti ragazzi avete avuto Allora allora sparò questo Faccio io Ok Ok eccolo Eccolo Vai 5 Oh 1 2 4 E 5 No Move Ragazzi devo andare avanti di 2 1 Ti ho superato porca miseria E' già da un po' che vi parlo di Boosteroid La piattaforma cloud gaming che vi permette di giocare ai videogiochi più famosi del momento Senza doverli scaricare Quindi senza avere il peso del gioco sul vostro dispositivo Ora vi voglio far vedere una cosa Qui se andiamo su Fortnite in Boosteroid possiamo accedere e giocare direttamente Senza fare download Questo perchè sarà tutto compito dei server di Boosteroid farvi giocare in full HD quindi a una qualità altissima senza problemi Grazie a questo potrete utilizzare anche il vostro vecchio PC che non riesce a reggere giochi pesanti e divertirvi un sacco grazie a questa piattaforma Potrete giocare addirittura giochi per computer come Call of Duty Overwatch sul vostro cellulare e collegare magari un joystick Qualcosa di a dir poco epico Inoltre devo essere sincero la cosa che mi ha colpito di più è stata quella che non è necessario fare gli aggiornamenti del gioco Proprio perchè voi il gioco non lo scaricherete giocherete direttamente da internet Una cosa a dir poco epica trovate il link in descrizione di Boosteroid Cliccate tutti e date semplicemente un'occhiata ma soprattutto E dico soprattutto Ricordatevi che potrete abbonarvi scegliendo un abbonamento mensile Due mesi tre mesi addirittura fare direttamente l'abbonamento di un anno a giocare A quanti giochi ti pare sia gratuiti che a pagamento Ti aspetto nel link in descrizione Non ci credo Io ti ho fatto 5 anch'io 1 2 3 4 E ora anche tu come me E 5 Ah no Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere E poi Ok io raga 5 anch'io Oh 1 Iniezione 2 Ma le partite Non l'abbiamo sparato Eh? Raga non l'ha sparato Ma come non l'ha sparato Ma non l'hai sparato tu Octa al posto mio Guarda Matti ci penso io adesso Guarda un po' come ti raggiungo Guarda No no tocca a me ora amico Vado Ah ma what? Eccolo è partito È partito È partito Matti perché sei sceso? Non lo so 1 Ma come solo 1 Devo andare qui Ma dai Ma che cos'è 1 Vediamo quanto fa Octi Octi fa 4 Ok 3 3 4 Io invece faccio 3 Oh ma voi sei sempre pari eh 1 2 E 3 Ok non c'è niente Non c'è scritto niente Oh ma solo io ho beccato le cose Ma infatti è incredibile Ma inizia Ti prendi la palla 1 2 3 Ho fatto esplodere Vabbè io intanto tiro eh Matti sparo per te Ok vediamo che mi esce Attenzione 4 Ok 1 2 Octi esce invece 4 4 Niente no Se facevo 3 Mi facevo andare avanti in 2 Octi 6 E io invece Ma Octi mi supera secondo me raga Perché io adesso farò 1 sicuro 100% 3 Ok No Octi che fortuna 2 Ma dai Octi mi ha superato No non è back dai Ma non ci credo Povero Cap Chi tocca? Ma in 4 Vai Zerby Ma voi lo vedete Lo sentite Ragazzi è dietro di me Zerby Matti ci stai per fare Ok 3 1 Octi invece 2 E 3 Ma non c'è scritto niente qui Octi stai per fare Stiamo facinando eh Zerby come va? Ma quanto è indietro Zerby raga? Che raga ma che tristezza Ma io ho fatto soltanto 3 Ho fatto 6 Il numero più alto di sempre Hai proprio voglia di spendere V-Bucks eh Quanto pare sì 4 Vado 5 2 Aspetta che mi fa andare avanti di 2 ora Move back di 4 Godo Godo Dietro di me Matti 1 Mi spai Octi? Ma come sono con Zerby ora? Ma non ci voglio vedere Ma stiamo scherzando Matti così impari Io ho fatto 5 1 Non parlo più 2 3 4 E 5 Ti prego dimmi che c'è qualcosa Sennò non c'è niente Cavolo Poi c'è di usare Ho superato tutti Vai Zerby Sparate un cubo che non li vedo Vediamo quanto fa Dai 6 6 Zerby 3 1 Vado anch'io Io faccio solo 3 raga 2 3 Vai Ok Vediamo cosa mi esce Dai un bel 6 voglio adesso Un bel 6 3 Come Zerby Ma che andiamo insieme Ora che ho detto quella cosa Ragazzi è il voto di Zerby a scuola Incredibile 5 1 Di solito è 2 Zerby Vediamo invece a me raga Quanto esce 3 Ok 1 2 E 3 No non c'è niente Cavolo Vai Zerby è il tuo momento Vai vediamo Zerby è il più veloce 1 1 1 1 1 Ma che 1 6 6 1 1 1 1 1 No no Mattizio 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 2 Vediamo vediamo cosa esce Adesso anche te 1 2 No 2 devo tornare Ah no no Ok no Ah Zerby te devi tornare indietro di 4 1 2 Ragazzi il Zerby non era tornato indietro di 4 io invece ho cinque ok in cui uomo ai serbi toccate tira vai re attenzione vai 3 e 5 dai 44 1 no ragazzi vabbè sparo a vediamo che mi esce dai un bel 6 un bel 6 coraggio 2 ragazzi torna indietro di 2 ma dai devo ritorna indietro di 484 adesso esce a capone all'inizio della ma ragazzi morti quanto sta andando lontano io sei io sei perfetto raggiungo 8 vediamo io 4 1 ma non ci credo devo aspettare un turno ancora un turno ma te non hai capito cosa è successo che torna indietro due volte di fila tocca a me sparo ragazzi il dinosauro mi ha catturato devo saltare un turno 1 ma che ci faccio come uno e vabbè niente cappi invece deve stare fermo e tocca optiche intanto va a vincere praticamente per vi toccate giuro 4 esco 6 e 4 esco ragazzi c'è quattro c'è quattro cavolo vado uscire uno sparo attenzione attenzione un bel 6 ora 4 ok mi piace uno due tre e quattro due due e due parola seriamate smesso raggiungendo raga vediamo un po quanto c'è me arrivo 6 o mio dio uno ragazze mi esce uno devo ancora tornare indietro di quattro impazzisco non uno di un rito se c'è uno rito 5 attenzione dammi un bel 6 dammi un bel 6 che raggiungo la matti 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 dovina cosa torna indietro di 2 e 3 dai come fai avere così sfiga guarda che ci sono in gioco 10.000 v bucks lo so purtroppo ragazzi io ho fatto due vai 1 e 2 ok ora tocca zerbi vai zerbi e rollo io per te vai zerbi adesso faccio uno guarda 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 1 3 ok 1 ma tizio a me vai no da 55 matti 3 ok 1 85 ragazzi morti già prima poi ho fatto anche 5 magari a meno vi raggiungo più a voi dai io ho fatto due porca miseria di qui da me matti matti vieni qua no per favore matti vieni qui vieni qui vieni il mio quadrato vieni il mio quadrato leggi qui a ciao è stato bello vero no devo andare indietro di quattro un'altra volta vai zerbi tocca a te vediamo che esce vai uno vai sparate anche per me che non ho più l'arma me la so persa attenzione ok 1 2 dai un bel vai avanti un avanti niente vabbè arrivo per queste occhi 4 ok queste migliori malattici dietro di me porca miseria come va ora tocca mai zerbi tocca a te vai amo che esce zerbi 1 no raga vedete qui sull'uno c'è scritto torno indietro di 4 ancora il più sfigato della storia credo non si credo non è possibile vediamo che mi esce raga devo raggiungere octi non può vincere lui 10.000 v bucks 2 1 e 2 vediamo che mi esce vai avanti di due o sono da capo stai scherzando ma porca miseria ciao attenzione occhi è il primo ragazzi deve fare uno per forza due vabbè dai ci sta uno vado da capo ragazzi devo fare il minigame che c'è qui ragazzi aspetti di raggiungermi ciao vai cap spara per me attenzione dai ti prego ti prego un bel 6 per superarlo no matti 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 che è successo zerbi dottore indietro di 4 ancora no ragazzi non ci voglio credere che vieni qui guarda move back fortiles ma diretti come fortiles mamma mia fortiles hashtag english ragazzi zervian 3 scusa octi 3 io 5 ok 1 2 ragazzi io rifaccio 4 e devo rientrare indietro ancora poi 5 mamma mia ragazzi esce 4 esce 4 esce 4 ragazzi che mi fa prima non muoversi tanto torna sempre indietro e io 2 io 2 e io 2 che mi esce nulla dai ma scappi si è staccato da me hai vinto opti sei capito opti ora devo stare fermo e fare più di tre quindi buona fortuna opti allora ragazzi è già arrivato ma dai ho vinto quanto ho fatto non prendere non prendere vediamo il primo sono il vincitore occhio quanto non lo so aspetta e non vedo ragazzi percursità vediamo se li faccio ancora qua ma ragazzi non so come arrivare lì uno ragazzi io sono arrivato alla fine non so neanche come ho fatto io se io forse vinco ragazzi ho vinto io ma no ma io sarei qui non posso ragazzi sono sono ma che è successo ragazzi ragazzi mi è uscito di nuovo 4 no non c'è credo guardate cielo guardate noi abbiamo finito e te fai 4 ragazzi comunque dai mi sono buttato io ma in realtà ha messo che c'è un player sfigato l'ultimo è proprio non è possibile ho preso almeno otto volte il torno indietro di 4 comunque opti complimenti mi sono buttato io dentro a teletrasporto ma in realtà hai vinto te eh lo so ragazzi opti ha vinto ed è il momento di fare il regalo complimenti tanto un applauso a opti che ha vinto il nuovo gioco di naso bravo bravo e vai dimmi cosa vuoi nello shop che inizio a prendere i v bucks e a comprarti qualcosa ti ricordo che c'è una bella skin esperto ricognitore da shoppare con il codice matiz te lo dico è peccato che me l'abbiano già regalata o porca miseria ci sono un sacco di skin fighe comunque risparmiare io voglio il tonante il piccone oscura ok figo ce l'ho anch'io questo infatti posso solo comprarlo come regalo va bene accetto mancano soltanto dai 8800 v bucks bene 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 pronti a inviarla opti primo regalo fatto che dire in questo momento copriano sullo scrivo di video che sicuramente non avete visto opti è forte a giocare solo ai giochi da tavola state tranquillo in battaglia lo battiamo noi ne c'è solo giochi da tavola vero ragazzi verissimo al prossimo video ciao ciao